Faccio un piccolo recap veloce perché poi quando porterò tutto su youtube magari c'è chi guarderà le puntate di fila o comunque le guarderà poi magari saltando quindi faccio un po' di ordine anche perché alcune cose le sto facendo offline, cioè le sto facendo fuori live per non appesantire troppo il gioco e per non appesantire troppo la live come per esempio alcuni reclutamenti che sono riuscito a fare e che si vedranno poi con un episodio a parte, con un episodio extra e anche alcuni mini giochi tra i quali la gara di cucina perché finalmente avendo ottenuto il cuoco quindi avendo comunque reclutato il cuoco sono cominciate già le sfide di cucina quindi ho già praticamente cominciato le sfide di cucina per quanto riguarda la trama principale dobbiamo continuare esattamente da dove ci siamo lasciati la volta scorsa quindi ci siamo ritrovati con Lady Perrielle che è praticamente il capo fondamentalmente della città stato della lega delle città stato e dobbiamo andare a vedere se gli altri stati appunto della nostra alleanza della nostra lega si decideranno finalmente a muoversi in guerra contro l'impero che a quanto pare ha architettato una sorta di rappresaglia per poter invadere con giusta causa oserei dire i regni della lega e quindi è nostro dovere proteggere i nostri confini quindi direi che la trama è abbastanza simile se non con qualche sfumatura diversa a quella di Shuikoden Shuikoden 2 per esattezza quindi stiamo rivivendo un po' l'esperienza di tanti anni fa a me questa cosa piace tanto questo profumo di nostalgia arricchito però da una grafica moderna e da un gameplay moderno è tanta roba e poi cosa più fondamentale e anche cosa più importante di tutte finalmente abbiamo sbloccato il teleport quindi finalmente potrò teleportarmi in tutte le città che vado a visitare in tutte le zone che vado a visitare per tentare poi di reclutare tutti i personaggi o comunque quelli che mi rimangono da reclutare perché al momento non possono essere reclutati quindi veramente tanta roba veramente tanta roba si chiama il nostro cuoco si chiama Kurz ed è tra l'altro un figo perché è veramente un grande figo non so se ve lo posso far vedere penso di sì da qua allora abbiamo reclutato i personaggi che abbiamo reclutato fino a questo momento sono diversi come potete vedere e abbiamo reclutato allora no il cuoco non c'è qui e sicuramente sarà uno un supporter sarà praticamente qui eccolo là eccolo qua questo è il cuoco guardate che fregno il cuoco cucini per tutto il gruppo prima del combattimento oddio cucini per tutto prima del combattimento quindi mi dai buff praticamente mi riesce a buffare che figata sta roba questo è ottimo in realtà è veramente ottimo raddoppia i bacca raccolti alla fine del combattimento ecco vedete già qui stiamo iniziando a prendere anche personaggi di supporto che aumentano i soldi sicuramente troveremo anche quelli che aumentano le esperienze eccetera eccetera ciao saikina leopardona del mio cuore sembra un tipo classi sì è molto è molto figo vedi tipo che fa tutto il sapientone i personaggi gli artwork sono bellissimi cioè a me gli artwork dei personaggi mi fanno impazzire letteralmente poi lei va bene lei aumenta l'acquisizione dei punti di raccolta le materiali rari lei pure e lui minatore pure no ma io mi metto lui come lo chef che mi cucina prima del combattimento è OP che mi dà tutti i buff praticamente anche se per ora non devo combattere perché al momento siamo praticamente sotto storia principale quindi ho praticamente raccolto tutti i personaggi che potevo reclutare in giro per la mappa anzi ce n'è una solo che dovrei controllare un secondo per vedere se adesso spunta ma credo di no perché questi sono diciamo sono personaggi che sicuramente spunteranno o quando livellerò il livello della mia diciamo del mio castello o quando sbloccherò qualcosa di trama oppure dovrò portare un altro personaggio perché poi ci sarà interazione con un altro personaggio no qui non c'è nessuno perché poi funziona così abbiamo sbloccato anche i beyblade che sono praticamente un altro dei minigiochi presenti all'interno di questo titolo solo che ancora sono troppo scarso con i beyblade quindi non posso fare nulla e abbiamo sbloccato anche il gioco di carte un gioco di carte facilissimo ed è veramente divertentissimo veramente addicting nel vero senso della parola ok andiamo a vedere cosa succede adesso cerchiamo di capirci qualcosa benvenuta contessa per riel puoi entrare grazie ecco lei è la nostra la nostra waifu suprema guardate che bella la grafica mamma mia palazzo tra l'altro molto orientale come come stile molto orientaleggiante anche la host è molto orientale quindi qual è l'argomento del giorno? gli è arrivata una lettera dal duca Aldrich che propone un nuovo rapporto tra Euciris e Galdea suppongo che comporti l'abbandono della lega delle nazioni per unirsi all'impero tradire la lega? che razza di shagurato acconsentirebbe? ebbè ma senti ti sei già calato nei panni di un leader della resistenza e scoprirai presto che razza di shagurato può aver pianificato una cosa simile e il duca di Aldrich è palesemente agares blight di shuiko den 2 cioè proprio le somiglianze sono talmente evidenti che boh mi vengono i brividi ecco qua qua ci sono tutti gli altri personaggi reclutabili sicuro scusate il ritardo oh sei qui per riel stavamo solo beh mi fa piacere che tu sia qui da questa parte va bene maestà ah contessa groom deve essere proprio una donna importante per far aspettare sua maestà no non c'è problema le avevo promesso di aspettare ehm ciò nonostante mi permette di ricordarle il suo ruolo qui è stata invitata per osservare solo per quello e mi dica di grazia chi sarebbero queste persone? le mie più sentite scuse lord harlan se permette maestà vorrei presentarle il comandante nova il giovane fondatore dell'esercito di resistenza o meglio fondatore dell'alleanza un gruppo che ha come obiettivo di difesa della lega delle nazioni dall'invasione imperiale la difesa della lega? ok un esercito di resistenza dice oh beh io non lasciate che mi presenti da sola sono l'ian e sostanzialmente sono la sua seconda in comando un'alleanza? beh sembra prometten ecco qua qui già c'è il traditore concentriamoci sulla questione più imminente maestà il duca Aldrich dell'impero galdeano cerca un'alleanza con noi dobbiamo decidere se accettare o meno i suoi termini ah ecco credo che il duca possa essere considerato una stella nascente all'interno dell'impero e che potremmo imparare molto dalla sua leadership audace ecco vedi già questo è stato corrotto considero questa una grande opportunità per Euciris specialmente se comparata a un presunto mercenario e alla sua alleanza è impazzito? quello è lo stesso imputente di ranno che ha invaso casa Groom le sue intenzioni non potrebbero essere più ovvie Contessa Groom devo forse ricordarla che si trova qui semplicemente in veste di osservatrice l'hai sorto a contenersi in presenza di sua maestà ma lei non è una che si trattiene mi dispiace per Riel Lord Arlan credo che nel ragionamento della Contessa Groom ci siano dei punti validi maestà non posso che risentirmi lavoro instancabilmente per Euciris sin da quando suo padre sedeva sul trono lo sa? sono stato a lungo uno dei servi più fedeli di casa Sia Reith ma ora affermo di non avere fede nella mia opinione? casa Fallmayr è quasi finita in rovina per supportare questo paese durante gli anni di carestia si rincuori Lord Arlan Reuma è ben consciente della lealtà delle nostre famiglie verso il regno certamente non intendeva sminuire tutte le grandi gesta della sua famiglia no, certo che no lui il re sembra essere un po' troppo buono per essere dovremmo agire in fretta e informare il duke Aldrich che abbiamo intenzione di accettare le sue condizioni ah ciotto matte un momento avete intenzione di arrendervi a lui senza nemmeno combattere? una tale ignoranza dice molto su di te ragazzino nessuno ha detto una cosa simile è come se il duke Aldrich ci ha teso la mano in segno di amicizia e unità mi dica se iniziassimo una guerra come faremmo a essere sicuri di riuscire a prevalere? non possiamo permettere che la nostra grande nazione si frantumi sotto il regno di sua maestà sì ma Cassius minchia deve solo ordinarmelo maestà e combatterò contro l'impero impiegando tutte le mie forze dai ti prego cerca di ragionartela e poi generale Cassius riuscirebbe a garantirci la vittoria? può garantire a sua maestà che ne usciremo trionfanti? l'impero galdeano non è composto solo dal duke Aldrich c'è anche il celebre generale Goldwyn quando si parla di guerra non c'è garanzia di vittoria vede? nessuna garanzia eh e che garanzia dà invece l'impero di rispettare i fatti? se il generale Goldwyn si trovasse nella sua stessa posizione generale Cassius sarebbe in grado di promettere la vittoria all'impero? cosa? è una domanda lecita non pensa? anche i migliori generali non possono garantire la vittoria sul campo di battaglia anzi sanno meglio di tutti che è una promessa impossibile certo tutto ciò che so deriva dai libri che ho letto ma il generale Cassius ha decenni di esperienza sul campo forse però Lord Arlan lei è di un'altra opinione pensa davvero che il nostro stimato generale Cassius non riuscirebbe a tornare vincitore? eh? beh io beh Arlan? no no ovviamente non lo penso ma questo è solo un cavillo e non ha niente a che fare con l'argomento che stiamo affrontando minchia cioè lui è stato lui è stato corrotto sicuramente per per accettare l'alleanza ecco perché Merridge lei è stato chiamato qui per formulare la nostra risposta una volta deciso è da farsi non per istillare i dubbi in sua maestà con i suoi arti arti artifici retorici ha ragione mi scuso per la confusione che potrei aver involontariamente causato eh detto ciò il duca non si aspetterà una risposta nell'immediato e sua maestà sembra esausta che ne dite di rinviare la decisione un altro giorno? ma maestà? oh ehm sì penso che sia meglio prendiamoci ancora un po' di tempo prima di decidere eh e almeno abbiamo tamponato la situazione però vedete con chi ho a che fare va avanti così da una settimana eh ma tu e Re non dovreste essere amici casa Reuma è salito al trono le circostanze da cui proveniamo sono molto simili ma le vostre personalità sono totalmente differenti eh? sì beh anche da piccolo Reuma non è mai stata una persona decisa credi che abbia paura di andare contro a quel contro a quell'Arlan? a essere onesti il vecchio Re era molto in debito con Arlan per quello gli ha conferito una posizione di tale importanza comunque non indugiamo ulteriormente torniamo alla locanda non ho alcuna voglia di incrociare di nuovo Arlan e ora guarda caso lo incroceremo sicuro 100% vuoi dare un'occhiata in giro mentre aspettiamo di andare? assolutamente sì vediamo se c'è qualcosa condizioni di formazione il gruppo non soddisfatto ah perché se n'è andata per Riel vabbè c'è Lian la mettiamo qua ok ci sta ora sicuramente noi incontreremo Arlan in giro e ci sarà un battibecco ci sarà qualcosa sicuro easy cioè proprio 200% ci gioco ci gioco qualcosina la mia curiosità più grossa è vedere se nel frattempo qui abbiamo modo di trovare anche qualcos'altro perché non credo che ci siano personaggi da reclutare perché tutti i personaggi del castello comunque tutti i personaggi legati qua saranno reclutabili per trama al 100% più che altro bisogna vedere se ci sono oggetti se ci sono robe che posso in un qualche modo sgraffignare magari oggetti importanti che possiamo che possiamo sgraffignare aspetta tu chi sei? oh ma tu sei un personaggio minchia ah no Said Ali ti chiami Novo giusto? eh ma certo che ti conosco chiunque saprebbe chi sei se sapesse ciò che sta succedendo mi chiamo Said Ali sono in viaggio per una missione proprio come te e sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo eh ma tu non sei un personaggio però chi cazzo sei? madonna qua tutti gli NPC devo parlare con tutti perché vedete rischio rischio praticamente di saltare rischio praticamente di saltare roba su roba allora da qua penso che non mi faranno andare ah no mi fanno andare invece pensavo mi dicesse no dobbiamo andare da quel lato a esplorare allora di la sinistra si triggera la cutscene quindi vediamo cosa c'è qua prima ah qui c'è la sala la sala del del re con il eh parliamo vediamo attenzione a non insultare Reuma ah no pensavo ah ma non posso parlare con il re niente il re mi snobba eh vabbè vabbè giustamente è il re quindi mi snobba fa bene anche io l'avrei fatto forse ah ma devo parlare con lei quindi aspetta prima di parlare con lei che tra l'altro sarà sicuramente un personaggio quello allora qui non c'è nulla comunque si ah oddio no tu sei tu sei un nobile tra l'altro madonna è particolare stava vedi tutta 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 questa parte acquatica con le ninfee qui invece cosa c'è nulla ma qua dietro c'è qualcosa no dietro le tende magari no vabbè niente ci ho provato rip va bene andiamo a parlare con quella che sicuramente sarà un personaggio che è tipo la sorella chi è mi sembrava vediamo o forse una domestica no è un personaggio Yulin dimmi sei il capo dell'alleanza vero non farti un'idea sbagliata non stavo rigiando durante la conferenza ho solo sentito qualche discorso per puro caso e tu chi sei oh ops perdonami sono Yulin la domestica di Reuma eh vedi la domestica eh non fate un'idea negativa di sua maestà so che la gente lo considera indeciso ma penso che sbagli che si sbagli è un sovrano molto gentile che non vuole prendere decisioni che possano ferire il suo popolo hmm E qua chi c'è ora? Ora qua sicuramente spunta Arlan Dove sei stato? Dobbiamo tornare subito alla locanda In modo che io possa continuare a pensare A una soluzione a questo problema Ma c'è davvero una soluzione? Beh suppongo che potremmo Rapire il re No scusate non mi viene in mente niente Contessa per IEL Sua maestà reumai è qui per parlare con lei Posso aprire la porta? Ma certo entrate pure Addirittura ci è andato il re Salve Perrielle Ho un po' di tempo libero e speravo di poterti incontrare Mi fa piacere che tu sia venuta qui Ma avrei preferito che fosse per una visita di cortesia E non per una situazione così infausta Ma ovviamente mi dispiace molto Per il tuo paese Ti chiami nuova giusto? Hai deciso di combattere per il bene di Perrielle? Oddio posso decidere se rispondere L'ho fatto per lei o per fermare l'impero Sì l'ho fatto per lei Davvero? Lo sapevo che triggeravo la gelosia di Lian Cosa? Ma non è vero Che bugiardo Scherzavo Beh non farlo Capisco capisco Perché secondo me Euma sotto sotto anche E' innamorato di Perrielle E quindi Scherzavi? Che peccato Oddio Oh Attenzione Ma lasciamo perdere questo argomento Euma Lascia che ti chieda una cosa Non come contessa di Groom Ma come una persona che ti conosce fin da piccolo Cosa intendi fare? Combatterai? O riporrai la tua fiducia nel Duca Halfric? Beh io Io La verità è che non so quale sia la scelta giusta Se decidi di seguire il sentiero che i tuoi consiglieri hanno preparato per te Euciris sarà la merce dell'impero No Peggio Del Duca Ma se combatteremo e perderemo Il mio popolo se la passerà molto peggio Forse il Duca non intendeva davvero attaccare il tuo paese Magari potete ancora Discuterne Mmm Inchia Pure il generale sta capendo che Ha detto una mezza cazzata Maestà Rischia di fare tardi per il suo prossimo Eh Ha salvato tutto È già ora Scusa Periel Continueremo questo discorso più tardi Contessa Groom Comandante Nova Vi auguro una buona giornata Eh lui Cassius Già si vede che è pronto per combattere Il solito vecchio Euma Non cambia mai Dobbiamo trovare un modo per fargli cambiare idea Forza gente Pensate a qualcosa Mi dispiace non sono un gran pensatore Mmm Eh vabbè No ancora niente Ma ci penserò mentre cammino Magari un po' di esercizio e mi aiuterà a spremermi le meningi Potrebbe non essere una cattiva idea Ok c'è qualcun altro Che dobbiamo prendere Ah vabbè sì sicuramente perché c'è C'è Periel Che Vabbè la mettiamo qua Ara Ecco lei è al 25 Quindi la dobbiamo portare un po' su di livello Per cui facciamo così Ara Ara Qui c'è un po' di Ara Ara Nell'aria Allora facciamoci un giro per la città Forse ci verrà in mente qualcosa Sì Sono d'accordo Vediamo che cosa succederà Sì lo sto giocando su Game Pass Su Game Pass è gratuito Per chi lo possiede Allora mi dice Ah ecco la locata Ah Ma quello è il luogo dove c'era Oddio vedi Ok Ok Ecco vedi Lì è dove c'era quel personaggio Che mi ha detto Eh forse non c'è nessuno in casa Mi è andato a fare delle compere Quindi adesso scopriremo chi è Vediamo chi è Ciao Nova Eh? Cos'è questo posto? Ah era casa sua Ho dei visitatori? Che cosa rara Mi ricordo di voi Eravate alla conferenza Prego entrate pure Capisco Capisco Cercato un metodo Per far cambiare Per far cambiare idea A sua maestà Ma perché siete venuti a me? Eh perché tu hai instillato il dubbio Perché sei l'unico che si è opposto ad Arlan Durante la conferenza Eh già Eri tutto un Spiegami questo Idiota Poi si sono distratti tutti Non si è concluso più nulla Sì Suppongo di aver fatto una cosa simile Ammetto che non mi va giù l'idea Che Lord Arlan Abbia campo libero Nel modificare i nostri rapporti con l'impero Concordo Non possiamo permettere che il duca Aldric Abbia Aldric L'abbia vinta Lord Arlan è a favore dei tagli allo Studium Se dovesse guadagnare troppo potere Potrebbe essere difficile per me Continuare a vivere Nella giatezza a cui mi sono abituato Quindi lo fai solo per te stesso? Esatto Non che limitare il potere di Lord Arlan Cambi qualcosa nel suo lungo termine Ti chiami Nova, giusto? Beh, potrebbe esserci un modo per cambiare le cose Contessa Sa che lo scorso anno Lord Arlan ha acquistato un vecchio maniero Nella periferia della città Da un altro membro della Camera dei Lord? E' così affezionata a quella casa Da averla resa la sua residenza principale Beh, buon per lui E quindi Di recente al maniero Si susseguono volti Sconosciuti Provenienti da terre straniere Mi domando se alcuni Possono essere messaggeri dell'impero Eh, vedi che l'hanno corrotto Allo stesso tempo La sicurezza attorno al maniero E' stata rafforzata A tal punto Che è diventato difficile Per gli eucirissiani Accedervi E a noi perché dovrebbe importare? Sta insinuando che Lord Arlan Abbia comprato un maniero In periferia Per incontrare segretamente Degli agenti dell'impero Perché non è affatto l'osco? E ancora una cosa Nella parte a sud-est di Yishan Troverete la città perduta Rimasta sommersa molto tempo fa Sì Come fai a sapere tutte queste cose? Oh, sto cercando il tallone d'Achille Di quell'uomo Da un po' di tempo ormai Questo tipo è un genio del male Quindi Ci stai suggerendo Di infiltrarci nel maniero di Arlan E cercare prove Della sua connessione all'impero? Sto solo dicendo Che se qualcuno Dovesse Trovare delle prove simili Rappresenterebbero Per un punto di svolta Per le negoziazioni in corso Normalmente sarei ristio A proporre un piano così incerto Ma al momento È tutto ciò che abbiamo Un piano incerto È comunque meglio Che starsene seduti A non fare nulla Attenzione però Si dice che la città perduta Si è infestata da mostri Servono le dovute precauzioni Faremo attenzione Grazie Wokata Ha detto Che la città perduta È nella parte sud-est Della città Vero? Eh già Ora andiamo a scovare Qualche sporco segreto Di Arlan Sì Vedremo quanto Si sentirà nobile Quando avremo finito Con lui Credo che stiate Perdendo di vista L'obiettivo Eh vabbè Però noi Mentre che ci siamo Ok quindi Tu ti recluterai Recluterai automaticamente Una volta fatto tutto Immagino Nintendo Switch Perché volevo Gioci supportabile Ma caricamente Dura 9 secondi Prima di ogni battaglia Porco Giuda Dura 9 secondi Mentre per un secondo ok allora dobbiamo andare noi nella città nella città nella città vecchia io siccome già ho il teleport ci possiamo andare direttamente senza fare strada e senza perdere ulteriore tempo ok andiamo alla città vecchia vabbè qua sicuramente boss fight tutto eccetera eccetera bordello questa deve essere la città perduta perduta è un efemismo che diamine è successo qui ci fu un terribile disastro molti anni fa io non ero ancora nata perciò non conosco i dettagli quindi attraversando questo posto riusciremo a intrupolarci nel maniero di Arlan eh già così ha detto il professor sapientone perlomeno allora intanto qua ci prendiamo il cibo allora io qua ho sbloccato diverse zone per diciamo di esplorazione però voglio vedere se effettivamente ci sarà vabbè le erbe curative queste qua ce le togliamo che tanto servono praticamente a niente che mi curano troppo poco oddio però non dovrei svuotare anche l'inventario effettivamente perché lì c'è scritto nel party c'è scritto che lui mi avrebbe cucinato prima 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 del combattimento ma è di cucini per tutto il gruppo prima del combattimento però non ha cucinato io volevo cucinare io volevo cucinato forse si riferisce solo ai boss potrebbe essere beh e adesso che facciamo non vedo un modo per proseguire infiltrarsi facilmente un corno lo studioso deve documentarsi meglio non c'è modo di attraversare dobbiamo pensare a qualcosa un momento un'idea che ne dite di chiedere aiuto a quella ragazza con cui abbiamo fatto amicizia in città Carrie? oh ma certo potrebbe riuscire a teletrasportarci dall'altra parte sì penso che almeno valga la pena provarci e quindi devo andare a prendere Carrie? merda e allora sì facciamo mappa e ritorniamo ok ritorniamo torniamo qua e devo cambiare membri del gruppo oppure no minchia ogni volta sbaglio l'uscita della città porca miseria allora forma gruppo e dobbiamo portare dobbiamo portarci allora Leon la mettiamo qua e qua mettiamo Carrie eccola qua tra l'altro lei è lunga quindi dobbiamo fare così oddio volevo vedere no va bene direi direi va bene così allora nel frattempo faccio anche riposa perché sono senza MP senza senza niente praticamente quindi salvo nel frattempo ok e ora possiamo ritornare alla città vecchia perfetto come sempre volete chiusi il potere della mia lente runica per aiutarvi ad attraversare vero? eh già vogliamo attraversare con uno come dei veri professionisti puoi farlo? ma certo io sono perfetta ottimo distanza nominale direzione nominale punto di atterraggio beh non riesco a vederlo ma supponiamo sia nominale oh Carrie sei un modello da seguire sì ma sei davvero sicura al 1000%? perché l'ultima volta non è andata benissimo non ho mai fatto un errore in tutta la mia esistenza sono perfetta è chiaro? sì signora non preoccupatevi il punto di atterraggio è perfettamente raffigurato nella mia mente ma hai appena detto che non riuscivi a vedere ok mi tappo la bocca ora venite qui e rimanete vicini nonostante io non sia capace di sbagliare non voglio che causiate problemi puoi farcela Carrie è meglio che sappiate che un singolo errore può spedirci rimediabilmente nello spazio tra le dimensioni ma per fortuna non succederà con me prego aspetta un momento olè ce l'abbiamo fatta? così sembra anche se non ho idea di come sia potuto accadere avete visto quelle lucertole giganti? cos'erano? un errore non è vero era il percorso più panoramico giusto beh allora grazie ok qui c'è un salvataggio che non preannuncia nulla di di buono oh no qua è per tornare indietro no non voglio tornare indietro vuoi che ti riporti indietro? no non serve rischioso ok io volevo semplicemente andare ecco 15 cibo e qui c'è un forziere immaginavo elmo solido scusa io che elmo ah elmo solido ok niente come non detto posto infatti era identico allora qui possiamo salvare eh si posso salvare qua tanto posso tornare indietro quindi va bene se non fossi riuscito a tornare indietro avrei fatto la la strada cioè avrei fatto un altro salvataggio 2300 bacca allora curiamoci ok utilizziamole tutte così almeno siamo a posto e dovrei comprare le medicine del risveglio effettivamente perché sono a corto di medicine del risveglio un problema questo allora vedi lì c'è allora qui c'è ok un gattino a caso ok e qui qui non ci posso andare ok ok quindi ok quindi devo fare vabbè l'hanno fatto tipo un modo di puzzle anche se vabbè in realtà sembra abbastanza semplice il tutto cioè basta che spingo questo di più ma ancora non ci sono quelli che proprio mi fanno impazzire cioè non ci sono quelli che mi fanno dire wow lo voglio fisso nel party cioè ancora non sono arrivato a quei livelli a questa ora forse la posso spingere lì a sinistra si ho capito ok spingo la sinistra e posso viaggiare la sinistra però diciamo sono personaggi che arrivano non dico nella parte finale del gioco ma arrivano nella parte un po' più centrale dell'opera ok questi li curiamo arriveranno sicuramente nella parte più centrale oddio qui c'è un salvataggio e quando c'è un salvataggio quando c'è un salvataggio meglio curarsi e meglio anche salvare lo sto odiando sto pad veramente lo sto bruciando letteralmente lo sto bruciando perché non è come i vecchi pad di una volta che si smontavano diciamo anche abbastanza facilmente il dual sense è proprio fastidioso da smontare è quello il mio problema eccoci qui c'è la boss fight vero che ne pensate di quello sembra stia venendo da questa parte e ora vum eccolo la guarda che bellino non mi paro stile oh è quasi adorabile si ora arriva la mamma perché quelli saranno i cuccioli ecco qua a due sono addirittura mamma e papà oh donna mia ma che cazzo donna tre sono addirittura no avevi detto che non era ostile ma in realtà ma e tu che era adorabile beh è evidente che mi sbagliavo piantate la gente questi mi spaccano il culo mi sa ah bravo che mi hai buffato almeno espediente piccolo paguro in questo espediente in questa battaglia può usare un espediente l'espediente del piccolo paguro cosa sa ah per far cadere ah vedi praticamente se colpisci paguri probabilmente fai cedere perché dove ti è appoggiato sui piccoli paguri allora lenti runiche io faccio il colpo a paguro invece mio facciamo l'espediente e qui piccolo paguro e tu l'espediente all'altro piccolo paguro poi lenti runiche e facciamo vento così ci proteggiamo la difesa magica e vabbè qua protezione fuoco mi serve ecco qua invece diminuiamo l'armatura evochi qualcosa da qualche parte danno singolo HP un alleato molti HP un alleato annulli tutti attacchi a un alleato una volta scudo sacro minchia questo è ottimo ok ah ma hanno una propria vita i paguri minchia super resistente tremore ok non mi ha tolto tantissimo perché ho la difesa fisica ecco qua gli riduciamo l'armatura ok ok allora dobbiamo andare giù pesante con allora attacco qui al piccolo paguro tu all'altro piccolo paguro poi piccolo eh vabbè sì a sto punto tu invece continua a togliere l'armatura e voi attaccate i piccoli paguri oh ah no ok e l'armatura è andata puttana allora attacchiamo piccolo paguro combo eroi invece al paguro tu invece fai gocce curative tu invece fai lenti runiche fai scuoti terra ma solo paguro niente allora colpo di roccia via teletrasporto nemici lontano dalla battaglia che ovviamente non funziona danni moderati luce a un nemico facciamo così ok attacco combinato pensavo avessi tolto un po' ok i paguri non hanno tantissima vita ok 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 allora io immagino che in realtà debba colpire io immagino che debba colpire i paguri sì 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 io immagino che qui dobbiamo andare un po' ecco di qualche danno te lo faccio in più però offerta di ghiaccio minchia vedi è l'altro paguro è già il paguro è andato giù ah minchia hanno messo slow allora lenti allora tu attacco fai così poi facciamo così colpo di roccia e tu invece no tanto non dovrebbe mancare molto alla morte tra virgolette del paguro ecco abbattuto esatto infatti stanno attaccando il pagurino allora combattiamo lenti runiche tendente vuoi combo di eroi tu invece facciamo di nuovo velo d'acqua tu continui col colpo di terra e tu continui così così ci dipendiamo facciamo molti più danni così eh vedi già la situazione è molto facciamo molti più danni così quindi sì il trucco è praticamente far fuori i paguri di ciccio che no ok cerchiamo di eliminarli il prima possibile ok uno è già a terra quindi ha mancato ottimo ok allora tu sicuramente vai qua poi tu vai qua tu vai qua lenti runiche facciamo un'altra di questa così ci curiamo un po' tu continua a colpire qui e tu continua a colpire ok ribaltato ok vedi questa boss fight già avendo comunque una meccanica particolare è anche interessante sono belle le boss fight quando hanno questa meccanica così allora qui combo eroi poi tu lenti runiche mettiamo vento lacerante può essere che sia debole al vento perché lì è verde o è una mia è un mio viaggio mentale no è tutto 69 ok ci rimettiamo in piedi sui paguri che tra l'altro neanche riesce ad attaccare cioè se io riesco a buttargli giù i paguri non riesce manca ad attaccare e invece qui attacca va bene non mi ha tolto un granché ok ha ridotto la difesa però speed speed up quindi qua facciamo così qui invece attacchiamo eh qui è un problema perché attacca prima lui a meno che riusciamo a meno che riusciamo a buttarlo giù potrebbe essere interessante qui facciamo goccia magica vediamo forse esatto ora dovrebbe abbattersi e non dovrebbe poter attaccare esatto ottimo ecco vedi ha ridotto la difesa fisica ok tu lenti runiche di nuovo ah HP gialli quindi ok non gli manca molto anzi no tu fai goccia magica non gli manca molto potrebbe morirci a breve ok non ancora eh vedi HP rossi quindi eh potremmo anche tentare di combatterlo direttamente ormai penso sì che ne valga la pena peccato che non ho più la difesa fisica cioè non ho più la difesa magica in realtà speriamo di non fare la cagata ma con gli HP rossi non dovrebbe avere tanti HP ormai solitamente è infatti con HP rossi dovrebbe ah no pensavo fosse morto minchia mi ha fatto un botto di danno infatti morto ok eh con HP rossi gli rimangono veramente veramente pochi HP quindi tanto valeva ormai pushare sul boss runa delle correnti quindi posso reclutare ora quel personaggio del il maestro rune posso reclutare ora che voleva le rune delle correnti lui buono buono quindi altro reclutamento che possiamo fare e ok torniamo indietro un secondo e salviamo ok così me voy a